Come sta la squadra e come vi presentate a questo appuntamento? Stiamo molto bene, siamo tutti bene fisicamente, mentalmente tutti in ottima forma. Si è creato un buon gruppo, quindi speriamo di fare molto bene. Ci stiamo raccogliendo sempre di più tutti in gruppo per cercare di fare un gran gruppo e di gran compattezza per non creare disquilibri. Si sta creando un ottimo gruppo, di conseguenza speriamo bene. Avete dato un'occhiata alle avversarie? Sì, abbiamo dato un'occhiata, ma ci siamo concentrati più su noi stessi perché se noi riusciamo a dare il massimo è una cosa più facile per battere le altre squadre. Venite tra l'altro da queste due amichevoli in Turchia. La seconda soprattutto è andata molto bene, avete dato un'ottima risposta sia difensiva che poi anche nella fase d'attacco è andata molto bene. Sì, la prima diciamo che siamo un po' ambientati, abbiamo giocato relativamente male sia in attacco sia in difesa. La seconda ci siamo trovati fin dall'inizio con tutti i compagni per poi finire facendo un grandissimo risultato. Prima partita contro la Grecia, venerdì alle 5.15, importante, fondamentale in un girone raccolto in tre giorni cominciare bene. Sì, è super fondamentale, soprattutto dare un distacco di differenza a reti, molto importante, così da far paura anche alle altre squadre.